Ciao ragazzi, sono Phil. Ho le braccia concerte perché sono un vero duro e questa carriola è la mia auto. Guardate che tamarrata. Come tutte le auto del cazzo ha uno sterzo, già proprio così. E udite udite, ha anche le ruote, incredibili ragazzi davvero. Ma per essere un'auto che si rispetti deve avere un motore, già proprio così. Sono un rincoglionito, confondevo sempre la mia auto con le altre, così ho deciso di comprare una tuta dello stesso colore della mia auto. Già, oggi vi mostrerò il mio lavoro, perciò venite con me. Pomodoro San Marzane, pomodoro San Marzane, pomodoro per bottiglia. Pomodoro per bottiglia, pomodoro per bottiglia, pomodoro San Marzane. Ho cattato belle, patate novelle, come so belle, patate novelle. E banane belle, e più belle è banà. L'uva da Calabria, l'uva da Calabria. A rossatelle e peperona, e melugnane e peperona. Arangi, mandarino e mandaragio. Arangi, mandarino e mandaragio.